Cari amici di My Personal Trenere TV, ben ritrovati. Dopo aver discusso di come è nata la dieta mediterranea, oggi ci occuperemo dei benefici salutistici che si possono ricavare utilizzandola come un regime alimentare di tipo consuetudinario. Sappiamo che la dieta mediterranea è uno stile di vita tipico delle zone che si affacciano sul bacino. Inizialmente studiata da Pirodi, medico italiano che la utilizzava nella cura delle malattie del ricambio e successivamente approfondita da Hansel Keys, ricercatore statunitense che avviò il famoso esperimento Seven Country Study, la dieta mediterranea è oggi considerata una vera e propria terapia di tipo nutrizionale. Ma più precisamente quali sono i benefici salutistici che si possono ottenere seguendo la dieta mediterranea? Per rispondere a questa domanda è necessario frammentare i principi cardine del regime alimentare, descriverne i cibi tipici e quindi specificarne le molecole nutrizionali in essa contenute. Ricordiamo fin da subito che la dieta mediterranea è un regime alimentare piuttosto inflazionato. Dalla sua rivelazione avvenuta più o meno a metà del XX secolo fino ad oggi è stata rimodellata, rimodellata, perfezionata e a volte perfino distorta. È quindi logico pensare che si tratti di un argomento abbastanza difficile da curare. Per fare un esempio di quanto la dieta mediterranea possa essere strumentalizzata ricordiamo l'episodio televisivo del 7 dicembre 2011, o meglio l'intervista di Bruno Vespa a Barry Sers, ricercatore americano ed inventore della nota dieta a zona. La trasmissione era porta a porta e si parlava di tre regimi dietetici completamente diversi, la dieta mediterranea, la dieta a zona e tisanoreica. Durante un confronto con Giorgio Calabrese, dietologo, docente di nutrizione umana e consulente del Ministero della Salute italiano, Sers descrisse la zona come l'evoluzione della dieta mediterranea. Ovviamente una filosofia nutrizionale che esclude totalmente i cereali non può in alcun modo essere associata alla ben nota alimentazione delle popolazioni mediterranee, ma si tratta senz'altro di un'ottima pubblicità. Nonostante alcuni cambiamenti nella definizione, i fondamenti della dieta mediterranea sono inalienabili e sono l'alto consumo di cereali di grezzi, di legumi, di ortaggi e di frutta di stagione, l'impiego esclusivo ma parsimonioso dell'olio extravergine di oliva come condimento, poco vino rosso come bevanda alternativa all'acqua nei pasti, consumo medio di pesce povero, carne bianca, latte e yogurt, utilizzo di erbe aromatiche e peperoncino, basso consumo di uova, formaggi e carni rosse. Poi ancora consumo occasionale di dolci e snack, bevande edulcorate, carni conservate e grassi da condimento di origine animale, senza poi dimenticare soprattutto uno stile di vita particolarmente attivo. Tutto ciò determina un apporto calorico idoneo al mantenimento del peso normale, ovvero di quello fisiologico. Favorisce poi la prevalenza delle proteine e dei grassi di origine vegetale su quelli animali, degli amidi rispetto agli zuccheri semplici, l'abbondanza di acqua, di fibra alimentare, di vitamine, di sali minerali, di varie sostanze fenoliche antiossidanti, di lecitine e fitosteroli nei cibi. Inoltre determina l'assenza o la presenza poco significativa di sale e zucchero sugli alimenti al momento del consumo. L'insieme di queste scelte determina l'efficacia della dieta mediterranea sulle cosiddette malattie del benessere, che sono prevalentemente il sovrappeso, il diabete mellito tipo 2, l'ipertensione arteriosa, il colesterolo alto, quello totale e soprattutto quello cattivo, i trigliceridi alti e a volte l'iperuricemia e la gotta. Inoltre non è raro che chi soffre di una o più di queste malattie presenti anche ingrossamento e ingrassamento del fegato, disturbi dell'esofago dello stomaco e dell'intestino e l'aumento della predisposizione a certi tipi di tumore, per esempio quello dello stomaco o quello del colonretto. La dieta mediterranea agisce positivamente sullo stato di salute combattendo quindi su più fronti la cosiddetta sindrome metabolica, ovvero la combinazione di più malattie tra quelle che abbiamo già menzionato. Anzitutto un corretto apporto di energia e uno stile di vita attivo favoriscono il mantenimento del peso normale quale elemento estremamente protettivo dall'insorgenza delle malattie metaboliche. Poi l'abbondanza di grassi buoni contenuti nell'olio extravergine di oliva, negli ortaggi, nella frutta, nei cereali, nei legumi e nel pesce, soprattutto quello azzurro, quindi omega 3, omega 6 e omega 9, contrasta efficacemente l'aumento del colesterolo, prevalentemente quello cattivo, e combatte l'aumento dei trigliceridi alti e della ipertensione del sangue. Tra l'altro è dimostrato che i grassi di tipo omega 3 siano in grado di aumentare la fluidità del sangue stesso e di ridurre l'infiammazione sistemica che contribuisce alla formazione delle placche aterosclerotiche. In sintesi, gli omega 3 riducono il rischio di infarto miocardico e di ictus cerebrale. L'apporto corretto di proteine della dieta mediterranea scongiura l'eccesso di scorie intestinali che altrimenti modificherebbero in maniera negativa la flora batterica e aumenterebbero il rischio di tumore. La prevalenza di carboidrati complessi e di fruttosio, solo naturalmente presenti nei cibi, in associazione all'elevato apporto di fibre alimentari garantisce un indice glicemico moderato. Questo significa in pratica che la maggior parte dei glucidi assunti con la dieta viene metabolizzato in maniera corretta e senza correre il rischio di aumentare eccessivamente l'insulina. In questo modo i carboidrati della dieta non costituiscono una fonte di deposito nel tessuto di poso, evitando l'incremento dei trigliceridi nel sangue e anche l'ingrassamento del fegato. Poi di per sé la fibra migliora la salute dell'intestino stesso alimentando i batteri buoni fisiologici e favorendo l'espulsione delle scorie. Per di più, oltre a regolare l'assorbimento dei carboidrati, la fibra interviene positivamente anche su quello degli acidi grassi e del famoso colesterolo. Come non citare poi l'abbondanza di molecole che riducono il colesterolo nel sangue? Tra queste ricordiamo le lecitine particolarmente abbondanti nei legumi e i fitosteroli presenti in tutti gli alimenti di origine vegetale, soprattutto nella frutta e negli ortaggi freschi. Le sostanze fenoliche abbondanti nella dieta mediterranea, oltre ad essere in grado di ridurre anch'esse il colesterolo, sono potenti antiossidanti. Presenti negli alimenti di origine vegetale e nel vino rosso, questi contrastano l'azione dei radicali liberi e contribuiscono a ridurre il rischio cardiovascolare e di tumore. Agiscono allo stesso modo pur con meccanismi differenti, i carotenoidi presenti soprattutto nei vegetali rossi, la vitamina C presente nei vegetali del sapore acidulo e la vitamina E presente soprattutto negli oli vegetali e nel germe dei cereali. Un altro elemento chiave, della dieta mediterranea è senz'altro il consumo dei vegetali a crudo, ovviamente solo quando è possibile farlo. Questo impedisce la degradazione di certi nutrienti col calore ed evita la dispersione degli stessi durante il processo di cottura. Ovviamente parlare esclusivamente di come agisce la dieta mediterranea non è sufficiente per poterla riprodurre fedelmente. È quindi essenziale descrivere meglio gli alimenti consigliati e quelli invece da evitare o quantomeno i gruppi ai quali questi appartengono. Questo sarà infatti l'argomento della prossima lezione intitolata cibi ed alimenti della dieta mediterranea. Vi aspetto quindi al prossimo filmato. Un saluto da My Personal Trainer TV.